direi che possiamo partire buonasera a tutti bentornati nella nostra diretta del lunedì sera nella nostra rubrica la notte dei frati allora vorrei partire come sempre con un paio di precisazioni ormai faccio un po così poi ho una domanda ho selezionato una domanda dai commenti fra i commenti su youtube dopo ve la leggo e poi chi vorrà intervenire dialogheremo un po vi aprirò il microfono spero che ci saranno domande e domani perché allora faccio questa puntualizzazione precisazione vedo spesse volte sotto i commenti che più di qualcuno mi chiede ma puoi parlare di questo autore puoi parlare di quest'altro autore perché non approfondisci questo la motivazione è semplice perché non sono un professore poi credo che anche un professore uno storico della filosofia abbia anche lui dei limiti io condivido con voi delle riflessioni sulla realtà che in realtà una parola grossa comunque su quello che ci raccontano viviamo l'informazione fatti che dovrebbero teoricamente riguardare la nostra società aspetti culturali eccetera poi la prevalenza dei video è la condivisione di un approccio un percorso filosofico esistenziale utile spero a trovare equilibrio centratura un significato stabilità a liberare un po la nostra mente il nostro cuore dai tanti condizionamenti quindi diciamo che l'ho sempre definito un viaggio un percorso che stiamo facendo assieme quindi perché dopo sapete qualcuno si arrabbia anche poi mi arrivano delle mail ma ti ho chiesto più volte di parlare di quell'autore a parte che eventualmente conosco un po di più i filosofi la tradizione filosofica occidentale e un po quello orientale però appunto non si arrabbi nessuno io non conosco autori a destra e sinistra conosco 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 ciò che conosco e direi che è già tanto poi un'altra cosa gesù i vangeli accendono sempre le persone però è un po la stessa osservazione che faccio perché alcuni commenti e alcune parole che secondo me trovano il tempo lasciano il tempo che trovano sono trasversali faccio un video sui vangeli l'altro giorno ho fatto un video sul quinto vangelo quello di il vangelo di tommaso e magari qualcuno mi manda la solita mail sotto trovate i commenti ad esempio ah beh proprio questo 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 vangelo di tommaso dici che un vangelo importante tommaso quello che disse se non ci metto il dito io non credo l'apostolo che meno ha seguito gesù oppure anche lì qualcuno mi ha scritto secondo questo autore che ha fatto un'analisi certa assoluta la storia non è così non è questa poi arrivano quelli sempre con il solito il biglianesimo ragazzi secondo me bisogna iniziare un po a vedere il contenuto delle parole di un messaggio perché fatemi fare questa brevissima riflessione che a volte certe cose io le do per ovvie ma ovvie non sono il vangelo quinto detto di didimo il vangelo di tommaso è un vangelo che ci arriva trovato nel 1945 si ipotizza che abbia circa 2000 anni quindi sembra una fonte importante ora per quale meccanismo lo dobbiamo connettere per forza al racconto di tommaso che ci viene fatto dai sinottici cioè dai vangeli canonici quelli che ci hanno sempre letto prendiamolo così cioè capite continuare a fare delle minestre minestroni per criticare basta finisce che poi non ascoltiamo il messaggio che c'è all'interno che come ho detto molte volte è un messaggio di osservazione di noi stessi osserviamoci se le cose stanno così vediamo cosa ci rende infelici condizionamenti come funzionano i condizionamenti della mente come possiamo pulirci che importanza ha se quel vangelo lì è stato scritto 2000 anni fa o è stato scritto dopo addirittura per certi versi chi mi capisce bene chi non mi capisce pazienza per certi versi io potrei non leggere i vangeli infatti molte altre volte leggo altri passaggi o in altre occasioni non leggo niente parto semplicemente da una mia riflessione cioè quando noi cerchiamo di fare la battaglia su quello il vangelo è vero no è l'altro finiamo dentro proprio quegli scontri che hanno portato avanti la miseria dell'essere umano per migliaia di anni è la verità dentro un percorso la cosa importante mi spiego cioè se un passaggio di un testo porta verità e ci aiuta a capire delle cose e ci aiuta a liberarci ad ispirarci a cambiare vita quella è la cosa bella dopo sì va bene fare un anche una riflessione storiografica confrontare le cose però con un po di serenità cioè senza dover mi accorgo che c'è una specie di sostrato oggi di pensiero che si è generato per perennemente negativo cioè certe persone si inventano la sera che cosa possono pensare per dire che tu stai dicendo qualcosa di falso ci sono anche certi autori che vanno tantissimo oggi autori e conferenzieri che stanno solo a demolire tutto dicendoti che tutta una truffa tutto è falso io apprezzo la demolizione del falso che ci crea un danno ma quando le persone certi soggetti arrivano a demolire in maniera fasulla oltretutto cose che in realtà sono importanti allora è una specie di è una specie di malattia mi viene da dire guardate lo sto osservando su tutto e l'altro giorno ho pubblicato un video che avevano pubblicato su 100 giorni da leoni dove jim carrey questo attore comico ve lo ricorderete ace ventura e compagnia bella bellissimo stupendo film the truman show jim carrey era una raccolta di suoi pensieri messi assieme abbastanza bene ma anche lì fa parte di hollywood sono satanisti allora io non lo so di jim carrey non lo so di certo non sono andato a prendere john podesta ok non sono andato a prema jim carrey io per tutto ciò che che ho ascoltato di questo autore ho solo trovato delle analisi molto spirituali filosofiche perché perché l'ha raccontato lui stesso ad un certo punto della sua carriera diciamo che ha imboccato un percorso spirituale si è molto avvicinato ad esempio a alcuni soggetti importanti fra cui e cartolle che apprezzo molto il suo testo il potere di adesso e ha iniziato un percorso di cambiamento di riflessione più volte ha fatto uscite anomale strane durante i momenti di celebrazione di hollywood o agli oscar eccetera sino mi pare a ritirarsi sempre di più adesso non è più lì cioè non è più un un attore di punta di hollywood io non lo so personalmente infatti ho chiesto mandatemi quali sono queste interviste dove lui parla e dice cose strane eccetera mandatemele però volevo fare questa osservazione prima di entrare nel tema importante di oggi cerchiamo di allontanarci da una specie di rabbia iconoclasta dove alla fin fine pure noi che stiamo cercando dico noi sono brutte queste parole loro noi però per semplificare stiamo cercando di non scivolare nella nella negatività nella nella rancorosità che sentiamo attraverso molte volte le tv o certi soggetti delle tv che non ascoltano il pensiero degli altri sono sempre pronti a giudicare etichettare cioè proprio noi che cerchiamo di tenere una mente aperta un cuore leggero evitiamo di entrare in questa negatività e questo demolire tutto perché è veramente brutto cioè ogni tanto mi rattristo vedere che un una riflessione come quella che può essere appunto sul vangelo di 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 tommaso sotto poi si trova un commento che non coglie l'invito all'ascolto diventa come tecnica arida ma oltretutto se deve essere tecnica le fonti perché qualcuno mi scrive quell'autore può essere il biglianesimo eccetera ha detto vattelo a leggere vatti a leggere io mi vado a leggere l'autore perché mi devo io devo andarmi a leggere gli autori perché tu sei arrabbiato non ti va bene niente stai criticando tutto ecco quindi io uscirei da questa cosa entrerei magari in una modalità un po più dolce si può dire guarda c'è questo passaggio così magari educatamente qualcuno mi manda il passaggio mi dice prova a guardarlo cosa ne pensi perché dice delle cose che ci fanno capire che ne so Jim Carrey guarda questo video Jim Carrey ha detto delle cose particolarmente inquietanti sembra uno che che fa parte allora magari guardo il passaggio e la volta dopo scambio con voi una riflessione dicendo però capite l'elasticità mentale ma anche un personaggio fosse compromesso se legge o dice qualcosa che è importante è reale per le nostre vite allora poi cosa faremo diremo che è quel personaggio lì predica bene cita buone cose ma razzola male ma distinguiamo le cose perché se andiamo avanti così fra un po entreremo in una specie di sordità dove sapete i cani che abbaiano i postini passa il postino passa una divisa e abbaiano a tutti ecco non mi sembra che la soluzione al sistema asfittico malato che ci hanno offerto sia quella di divenire della specie di cagnolini soprattutto quelli piccoli che continuano ad abbaiare bene basta mi fermo allora entriamo in cose importanti l'amica un'amica lascio perdere i nomi proprio sotto il video dove ho commentato i primi i primi versi del vangelo di tommaso mi ha scritto questo commento molto importante secondo me scrive mi sentite bene spero sempre sì ok allora scrive ciao pier molto bello interessante il video il video è i segreti del gemello di gesù riesco a percepire ciò di cui parli ma tornando poi alla vita pratica mi rendo conto che non sono abitata sempre da amore incondizionato mi accorgo che c'è rabbia e rancore quindi sono sbagliata perché per quanto tenti nel mio quotidiano c'è sempre comunque qualcosa fuori posto che va in contrasto con la teoria puoi dire qualcosa assolutamente sì che posso dire qualcosa allora mi aggancio alle osservazioni che ho fatto all'inizio se stiamo un po seguendo questo percorso che sto condividendo spero che nessuno di voi pensi che c'è una teoria e una pratica sono spesse volte disgiunte queste cose a teoricamente così praticamente poi è un'altra cosa allora la domanda che faccio a questa amica è ma qual è la teoria io non propongo una teoria forse hai costruito tu nella tua mente una un'idea un ideale ecco l'ideale eidos da idea forma una forma dentro cui dovresti stare allora io mi rivolgo a tutti coloro che ci sono persone con cui ormai lavoro da siamo invecchiati un po nel tempo avevo 26 27 anni abbiamo iniziato corsi di meditazione gruppi ecco ne sono passati 20 circa di anni ok allora lo sapete che noi non siamo qui per chiuderci dentro un'idea di come dovrebbero andare le cose ma siamo qui per osservare la realtà lo stato di fatto delle cose lo stato la realtà noi il più delle volte e la la evadiamo creiamo illusioni cerchiamo di modificarla perché non accettiamo il reale e questo non accettare il reale ci crea sofferenza e dentro quella sofferenza poi creiamo un'idea di come dovremmo essere giusti corretti ciò che ci potrebbe dare felicità quindi una falsità viene combattuta da un'altra falsità un'idea viene combattuta da un'altra idea ecco io dico stiamo qui ed ora e vediamo che cosa c'è in noi allora all'amica nel qui ed ora tu senti che a volte c'è rabbia che a volte c'è lo sentiamo tutti io a un certo punto lungo la mia strada ho fatto un po più pace con quello che c'è rabbia odio gelosia io vedo un sacco di gente in giro non lo so mi butterò i loro piedi farò maestri miei di vita mai gelosi non hanno una gelosia io mai non hanno mai odiato qualcuno adesso non dico l'odio folle che però un sentimento d'odio mai mai a lei mi chiede mai stati invidiosi mai fatto un confronto sembrano quelli che escono dalla dei filippi dei filippi programma avete presente io sono una persona vera io amo tutti perché parlano un po sempre con quell'accento io amo tutti poi gli becchi nel c'è non si rendono neanche conto che hanno un disturbo sono sociopatici hanno una scissione interna hanno una psicosi perché mentre dicono che sono veri onesti splendidi limpidi appena hanno un passaggio uno scambio di parole si giudicano si offendono dicono di tutti i colori in stile grande fratello cioè io me le ricordo queste cose perché il primo grande fratello l'hanno dato trasmesso che io avevo 19 anni mi pare 20 forse quindi sono 25 anni circa che ci stanno intossicando con sta roba a tantissimi livelli infatti abbiamo un problema di dissonanza cognitiva tutto ciò che ci viene detto è una sorta di astrazione di perfezione vedete anche adesso vogliono entrare nelle scuole fare tutte le scuole non ho ben capito cosa faranno ma i nostri ragazzi devono uscire praticamente lavati in candeggina limpidi gli spiegheranno come gestire le emozioni come vivere bene eccetera per trasformarli in persone non lo so spente poi nel frattempo però tutta la nostra società dal punto di vista del potere mass mediatico dell'economia ciò che fa girare la musica gli spettacoli le feste tutto offre droga testi violentissimi celebrazione dell'immagine confronto raffronto competizione divisione frammentazione poi vanno a scuola e dicono dovete vivere delle relazioni meravigliose cioè una specie di san francesco e santa chiara un po strani perché sembrano san francesco e santa chiara usciti da un film porno però perché vanno lì gli spiegano della sessualità a livelli molto strani ne abbiamo già parlato e contemporaneamente devono avere questi sentimenti limpidissimi eccetera allora questo per dire che si crea veramente una frattura tra un mondo ideale un altro mondo ideale se noi stiamo qua nel qui ed ora forse ci scopriamo un po gelosi a volte a volte invidiosi cioè io credo che dentro di noi ci siano tante cose c'è tutto c'è tutto cambia l'intensità che cosa fa che cosa rende un individuo un assassino e un altro individuo una persona mediamente oggi anche il mediamente sano è tutto relativo ma mediamente inserita oppure una persona libera cos'è che fa la differenza allora l'assassino ha uno stato emotivo che è divenuto totalizzante ha una patologia un logo soppatito è entrato completamente magari dentro il senso di morte che gli dà l'idea di perdere una persona la gelosia la possessività ce l'ho anch'io ce l'hanno anche quei soloni che stanno in tv però e magari è bassa è bassa o è pienamente consapevole quindi ho creato una distanza ed è ininfluente in quella persona per un'infinita molteplicità di aspetti si è creata una calcificazione come amo chiamarle si è creata una cristallizzazione il suo mondo si è chiuso dentro quella relazione quell'evento di odio di possessività e quando si spezza l'ultimo ramo ecco che viene giù tutto allora se in noi sentiamo gelosia se sentiamo rabbia se sentiamo paura dio grazie ma per fortuna perché è il non sentire queste cose che produce un'esplosione o un'implosione che produce una depressione profonda uno stato continuo di ansia o una dimensione estremamente aggressiva e violenta oppure quelle persone che per dieci anni sembrano veramente della specie di mummie imbalsamate e poi una sera fanno fuori tutta la famiglia allora anche qua l'amica si chiede ma sono sbagliata ecco è questa guarda la questa idea allontanala quante volte pensiamo di essere sbagliati non dovremmo essere così una società che ci dà tutta una serie di spinte all'estroversione a rincorrere cose ci spinge a rincorrere spinte eccetera e poi ti dice guarda che sei sbagliato se fai così magari noi stessi per non lo so per cultura familiare ci hanno abituati un po a giudicare certe emozioni certi sentimenti non dovresti essere geloso vabbè dopo c'è chi ha avuto anche il condizionamento inverso comunque sempre il condizionamento è magari ha visto un padre sempre geloso solo i padri sapete perché di recente abbiamo scoperto che solo gli uomini maschi etero sono gelosi possessivi le donne mai vista vero mai vista una donna gelosa comunque è un condizionamento da una parte dall'altra se tu lo ascolti se tu ascolti questo vissuto questa dimensione questa energia che ti abita chiamala come vuoi in realtà riesce a metterla di fronte ai tuoi occhi e inizia a capire il senso cosa c'è dietro allora sono possessivo sono geloso ho paura ho paura di perdere quella persona perché se la perdo se sceglie un altro al posto mio io mi sento morire nell'immagine di me stesso perché mi ha rifiutato e per la prima volta magari mi sentivo un po valorizzato un po amato un po accettato mi abbandona ecco che ritorna quel senso di essere niente essere vuoto che avevo prima ma amplificato per un milione di volte perché quell'unica persona che mi ha fatto un po sognare le stelle mi ha mollato da un'altezza incredibile mi sono schiantato allora se faccio che capita è dura fare questo ragionamento a 15 16 17 anni 20 anni in una società che non fa queste riflessioni ma il percorso è questo cosa fa questa società quando capita uno di questi fatti o ci sentiamo a disagio e facciamo qualcosa di sbagliato mostro criminale assassino non dovete essere così non dovete è sbagliato questo sistema crea ancor più una pressione delle gabbie esplosive allora se tu invece ti ascolti e non ti crei l'idea dell'amore incondizionato io dovrei a no ascolti e senti che c'è paura che c'è rabbia qualcuno t'ha ferito io gli vorrei spaccare la testa è brutto dirlo perché siamo nella società del politicamente corretto no no io con me stesso parlo onestamente me lo dico io quello lì lo vorrei menare ma non lo faccio perché tanto perché mi mettono dentro se non mi mettessero dentro magari lo perché questa energia non è così forte in realtà tutto sommato e solo perché non è così forte perché se traborda la tua capacità di gestione tu lo fai che tu lo voglio io non lo voglio tu lo fai allora il suggerimento è finché puoi guarda ascolta osserva sciogliti e l'ambiente intorno a te le persone che ti crescono che ti amano e anche noi che siamo adulti se ci amiamo fra di noi l'inizio di questo dell'amore è dire dimmi ciò che c'è non voglio bugie è la verità che ci rende liberi la verità la vedo non voglio bugie da te non voglio bugie da me stesso non voglio bugie cosa ce ne facciamo delle bugie niente e allora vieni qui e dimmi cosa c'è cosa senti è uno spazio di verità è uno spazio di ascolto e l'amore non è forse un ascoltare incondizionatamente allora l'amica che dice sento queste cose non so amare incondizionatamente ferma ferma cosa stai dicendo senti queste cose ascoltare perché amore ascoltare e dovresti amare anche te stessa perché se non ami te stessa in senso consapevole non in una sorta di disturbo narcisistico ma il narcisista non si sente non sente niente ha un'immagine di sé questo è un percorso totalmente diverso è una conversione stai andando verso l'interno ascoltandoti allora questo andare verso l'interno ascoltandoti è amore in azione e più riesce ad accogliere parti di te e comprenderle capirne il senso ad esempio paura gelosia invidia più riesce ad abbracciare accogliere le emozioni i sentimenti negativi degli altri soprattutto di chi è vicino a te magari ti interessa di più perché adesso non è che devo andare in giro per il mondo a cercare tutti però capite soprattutto uno che vuole entrare nelle scuole insegnare i ragazzi cose cosa vanno a insegnare la mia domanda è bello bellissimo insegnare a capirsi a gestire le emozioni ad amare di più e la mia paura è che non sanno che cosa vanno a insegnare capite perché io non sento questi discorsi sento dei discorsi condizionanti allora i ragazzi stanno male perché sono condizionati e cerchiamo di toglierli da quel male con un altro condizionamento allora ascoltati ascolta questa paura la rabbia il rancore il rancore viene dal cuore core è un sentimento potente se lo segui ti porta al cuore perché c'è questo rancore ascoltalo lui ti parla ti spiega le cose la rabbia ti parla e ti dice perché è lì sono tutte energie che vogliono essere ascoltate sono delle presenze dentro di noi che siamo noi stessi adesso ho paura di dire certe cose perché sapete che c'è gente che vede cose sono nostre parti spesse volte di quando eravamo piccolini che ci stanno ancora chiedendo cinque minuti di attenzione e di affetto perché non ce le ha date nessuno allora oggi ad una certa età tu puoi essere padre di te stesso puoi essere madre di te stessa non rifiutarle queste cose non pensare che ci sia un'idea di corretto il santo non lo so l'amore amati ama te stessa in questo senso che è saggezza e consapevolezza che poi puoi donare agli altri ama gli altri come ami te stesso ma se non sai come amarti c'è gente che è veramente patologica è aggressiva con se stessa giudicante e pensa che quello sia affetto cioè dire alle persone ama gli altri come ami te stesso cioè io direi prima impara ad amare te stesso e comprendi che cos'è l'amore e poi inizia occuparsi degli altri cioè non partire dagli altri parti da te stesso e se parti da te stesso senti che è necessario questo ascolto affettuoso un ascolto attento c'è amore quando c'è attenzione se c'è tutta la tua attenzione rispetto a qualcosa c'è tutta la tua presenza che cosa hai di maggior valore di tutta la tua presenza il grande guaio è che noi oggi non siamo quasi mai presenti tutti frammentati infatti quello che dicevo all'inizio cioè fai un video come questo e qualcuno poi mi scriverà ma leggi il testo di quell'altro hai visto che cosa ha detto quest'altro ma jim carrey l'altra volta l'ho visto che andava in giro con quella stiamo in un ascolto e nucleare del nu del nucleo un ascolto del nucleo non mi interessa niente di jim carrey non mi interessa niente di 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 del vangelo di tommaso non mi interessa niente di gesù del buddha non mi interessa niente di tutta sta roba mi interessa solo il qui ed ora noi l'essere umano reale secondo voi sono dove sono l'essere umano reale qui ed ora è invitato ad ascoltarsi allora non c'è nessuna teoria se tu crei l'idea di come dovresti essere ecco la teoria e poi nella pratica fallisci no c'è solo la realtà di ciò che accade l'ascolto ascolti senza giudicarti se vedi il giudizio che arriva lo ascolti lo comprendi vedi che si è attivato il giudizio non dovrei essere così dovrei essere in un altro modo vedi questa sorta di circolo vizioso e capendo che è insensato gli dai sempre meno credito meno energia perché ciò a cui tu credi diviene reale allora nel momento in cui tu prendi un po di distanza dalle cose c'è consapevolezza puoi vederle quando le vedi comprendi il significato e qui chiudo ragazzi il significato c'è rancore ha bisogno una storia non è ancora finita ha bisogno di dire ancora le sue parole c'è rabbia c'è odio vai fino in fondo a quell'odio e capisci che alla fine diviene compassione se invece lo cavalchi ottusamente l'odio distrugge te è chiarissimo odi odi per cosa magari una persona che neanche pensa a te cinque minuti neanche un minuto e a te rimane l'odio vai in fondo e ti rendi conto che ti sei in l'uso il più delle volte l'odio il prodotto di un'illusione hai proiettato un'idea su qualcuno e era falsa quindi hai sbagliato tu non ti sei sentito ricambiato che può essere anche degli aspetti che riguardano il rancore e non riesci a chiudere quella storia e dire accetto che le cose stiano così quella persona arrivava sino a lì o forse neanche sino a lì pazienza perché se inizia a vedere chiaramente come sta l'altra persona inizia ad avere una certa compassione per te che proietti illusioni perché forse hai bisogno di una carezza di una coccola o di trovare il principe azzurro la principessa rosa e l'altra persona che magari vive un'insensibilità una chiusura cioè quindi i limiti iniziano ad apparirci e quando il limite ci appare in maniera chiara inizia un senso di compassione di pietas e quello allora è amore in azione tornando al meccanismo è lo stesso il meccanismo che ho detto prima del ragazzino o ragazzo o adulto a volte uomo e donna le donne uccidono di meno sì ma non è che soffrano di meno le donne non è che soffrano di meno l'inconsapevolezza nelle relazioni ok non so se mi spiego se cioè quando noi non riusciamo a vivere in maniera consapevole leggera con saggezza le relazioni soffriamo che siamo uomini o che siamo donne allora poiché non è che veniamo tanto aiutati ad ascoltarci ad essere centrati a percepire la leggerezza e la bellezza che siamo noi che è in noi ad avere fiducia in noi e quindi a poter fare cose belle nella vita avere momenti di caduta ma avere fiducia e risalire alzarci avendo imparato qualcosa poiché questo proprio non viene insegnato ma viene insegnato appunto al massimo uno squadrarsi sì giusto dentro i quadretti o la competizione una competizione assurda senza senso ad un certo punto ti trovi poi abbiamo dei genitori poverini i ragazzi oggi hanno dei genitori che sono o già persi dentro il sistema di frammentazione essi stessi sono sono frammentati e dispersi come i ragazzini ma poi hanno anche un problema serio economico di arrivare a fine mese di porre attenzione a cose dei bambini dei ragazzi che loro adulti non conoscono più sistemi digitali app come come mode loro modi di stare assieme linguaggi una volta tra un genitore un ragazzino si si creava un certo divario però più o meno quasi quasi giochi erano gli stessi era la fionda uscire con la morosetta cioè veramente adesso si crea nell'arco di dieci anni un divario mostruoso l'altro giorno parlavo con una ragazza e mi diceva a 15 anni meno di me segue ragazzini degli ultimi anni delle scuole superiori quindi diciamo che tra me i ragazzi della scuole superiori è in mezzo come spazio linea temporale e mi diceva io mi sento vecchia non li capisco non capisco cosa dicono non stiamo parlando e noi sappiamo che oggi la maggior parte delle persone fa figli quando arriva a 40 anni quindi in mezzo ci sono 40 anni allora questo sistema fa fatica a prendersi cura ad ascoltare a comprendere a guidare ad amare i ragazzini iniziano a crescere già noi in passato comunque facevamo fatica non sto dicendo che la società del passato fosse la società delle meraviglie assolutamente no ma adesso la sfida è divenuta veramente pesante difficile velocissima dura allora ti trovi questi ragazzi che entrano in stati di smarrimento solitudine sfiducia deprivazione di strumenti cognitivi logici e di ragionamento hanno tantissimo rispetto alle generazioni passate come oggetti tecnologia eccetera hanno sempre meno come strumenti e anche come semplici obiettivi da raggiungere una volta la società era più semplice ti fai una famiglia fai una casa cerchi di fare un lavoro e non rompi le palle magari andava complessificata non lo so comunque era più semplice ok con tutte le sue fatiche era più semplice oggi si trovano in questa condizione di annichilimento a volte di smarrimento di vuoto interiore proprio di angoscia non e noi adulti non riusciamo a capirla sono abitati dall'angoscia l'altro giorno sentivo crepe che li prende per il culo perché diceva non hanno niente da fare hanno tutto e mi dicono si fumano le canne eccetera ci sono un po di sti soggetti che sono sempre per le tv che praticamente amano prendere e giudicare colpire le famiglie e i giovani il sistema mai il sistema di potere di denaro di speculazione mai perché stanno lì capite non è che non mordi la mano che ti dà da mangiare allora io provo veramente un senso di pena per genitori e figli e ci sarà anche un motivo per cui i genitori non ce ne sono più e fanno sempre meno figli le persone soprattutto nella società occidentale perché fa paura questi ragazzetti arrivano ad un certo punto che incontrano un amore intenso magari una passione anche fisica sessuale però ti dà un senso di pienezza poi accadono gli inevitabili cambiamenti o i litigi o proprio l'idea questo unico punto di luce porta il soggetto uomo o donna ad essere oppressivo e l'altra persona vuole scappare dinamiche giochi che teoricamente dovremmo conoscere anche noi se non siamo divenuti proprio stupidi solo che se il soggetto dentro ha un abisso micidiale pochi strumenti emotivi cognitivi logici punti di riferimento non sa da chi andare boom esplode o implode il più delle volte questo il meccanismo che c'è sotto e ci abbraccia tutti questo meccanismo cambia solo l'intensità il più sfigato ultimo di questo organismo che è la società esplode si suicida o fa un omicidio quello un po più fortunato che sta in un punto con maggiori agganci riesce a gestire la cosa perché ha più amicizie perché magari la madre c'è perché c'è un amico ma se iniziamo a vederci come un unico fenomeno e un unico organismo iniziamo a chiederci come mai accadono le cose non a giudicarle etichettarle e fare certi spettacoli o sceni a livello mass mediatico televisivo ma anche personale delle sceneggiate allora secondo me iniziamo creare davvero un percorso capace di farci crescere nelle scuole in noi stessi nelle famiglie ecco quindi qua mi fermo quindi sei sbagliata no assolutamente no c'è un errore semmai si quello di iniziare a crearti l'idea di come dovrebbero essere le cose ma non giudicare neanche questo fatto osservano e guarda che diventa il granello di 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 sabbia che inceppa il motore non c'è una teoria una pratica non c'è un amore corretto cioè dimmi te che amore è tutto perfetto l'amore è tale tale ed è sempre stato cantato e si è giunti a dire addirittura che se un corpo esiste amore perché abbraccia anche la parte più dolorosa e sofferente abbraccia anche a livello di di metafora a livello sociale ma anche a livello reale sarebbe capace di abbracciare anche l'omicida è così che che rissani ogni parte del corpo bene io ho finito credo di aver risposto alla domanda della dell'amica dopo sugli aspetti magari di pratica un aspetto per poter praticare di più ne abbiamo parlato tante volte perché dopo a volte succede si succede accade questa domanda ma poi nel quotidiano ecco a volte si crea l'idea teoria è questo che ho detto e magari qualcuno mi ha capito poi però quando accade che cosa faccio e quindi tra la teoria e la pratica si crea un divario non creare quel divario allora ci sono state suggerite delle pratiche che in realtà è solo la continuazione di quello che abbiamo detto se senti il rancore lo ascolti ti prendi del tempo se arriva il colpo di rabbia la paura ti prendi del tempo per stare in compagnia di questa emozione o sentimento sono i momenti contemplativi meditativi di raccoglimento e sono fondamentali stiamo sempre peggio perché è una società che sta eliminando il tempo vuoto una volta c'erano meccanicamente tempi vuoti fosse stato solo andare in bagno andava in bagno se non ti portavi un fumetto in bagno almeno li stavi a contatto con la realtà la dura realtà dei fatti adesso se notate le persone vanno in bagno col cellulare non notate perché a volte le sentite cioè tu stai parlando qualcuno di questo è facendo il treno non è il treno è che sta in bagno allora meccanicamente nella società di una volta c'erano degli spazi vuoti uscivi non c'era il cellulare dovevi stare con quel tuo amico che avevi scelto adesso esce ci sono 17 amici o mamme o persone che ti chiedono cosa stai facendo dove stai andando allora mai come oggi raccogliersi e trovare dei momenti dove si è totali in uno stato di quiete è divenuta una cosa salva vita lo si può fare camminando andando nei boschi si amiamo andare nei boschi nuotando correndo andando in bici cambia l'attitudine mentale però perché alcuni mi dicono a ma vado in bici ma non cambia niente sì ma stai andando in bici ascoltandoti o stai andando in bici magari con le cuffie o pensando al lavoro perché puoi andare in bici ad essere lì mentre rimugini e pensi al lavoro domani cosa farai quindi è la modalità attraverso cui facciamo le cose che rende quella cosa ancora più utile a pulirci a liberarci quindi puoi fare 20 vasche in piscina sentendo l'acqua essendo il nuoto essendo il nuoto oppure puoi fare 20 vasche puoi fare yoga c'è gente che va a fare yoga e se andasse a fare quattro salti in discoteca e bersi due bicchiere di vino sarebbe uguale perché perché se vai a fare yoga capendo intanto che senso ha e ascoltando a sé funziona se vai a fare yoga pilates yoga perché adesso sono inventati cose strane guardandoti allo specchio pensando di divenire più elastico che è vero mantieni sicuramente meglio il fisico ma non stai facendo quell'unità interna che significa yoga che è una pratica spirituale era nato lo yoga era nato così intorno al mille è stato definito così intorno al 1600 1700 prima non aveva neanche questo termine adesso non mi ricordo comunque ok quindi l'aspetto che poi diviene come praticare ciò che abbiamo detto nel quotidiano è molteplice lo senti tu senti ciò che è più adatto a te ci sono persone ad esempio che non hanno bisogno né di andare a correre o o mi verrebbe da dire la cosa migliore sarebbe riuscire a portare in tutto ciò che facciamo questa pratica di ascolto all'inizio all'inizio sarà un po faticoso perché ci siamo disabituati ad un certo punto ci accorgeremo che c'eravamo alienati prima abbiamo dovuto faticare anni per non essere più capaci ad essere silenti quieti e capaci di ascoltare ci hanno veramente messi sotto una pressione per anni avete mai visto un gatto un uccello un animale che non è nel qui ed ora attento a tutto ciò che lo circonda perché quello è lo stato naturale di ogni cosa in questo universo lo stato naturale è presenza rilassatezza e gioia serenità l'essere umano medio è in uno stato naturale che è alienato quindi non è più naturale giusto allora all'inizio dovremmo fare un po di fatica per rilassarci pensate voi perché ci siamo rovesciati faremo un po di fatica per rilassarci faremo un po di fatica per essere in semplice ascolto perché la nostra mente non sta ferma continua a giudicare parlare la mia regia occulta mi dice che monti stefano ha alzato la mano io mi taccio ti ho aperto il microfono stefano ti ho aperto il microfono ti sento malissimissimo volevo chiederti mi sembra che tu parli spesso e riempieggiano nei tuoi discorsi delle cose di osso mi sa dire se è vero il mio sentire oppure se non c'è assolutamente niente guarda non riesco a sentirti proprio se vuoi prova a mandare sento ti devo chiudere il microfono sento un brusio e basta se vuoi se non è una cosa lunga puoi mandare un messaggio sulla nel gruppo telegram mi mandi il messaggio riesco a leggerlo al volo però veramente l'audio non so se anche voi avete sentito l'audio con questo effetto non ci ho capito niente quindi se puoi se vuoi mi mandi un messaggio nel gruppo marco ti apro a te ciao marco ciao ciao per luigi e si confermo era purtroppo impossibile sentire la voce ma guarda io volevo riferirmi al discorso con il quale avevi cominciato il preambolo un po che avevi fatto e tu sai che anch'io il canale del laboratorio del laboratorio del lavoro e anche a me succedono di queste cose perché non mi parli di questo perché non parli di quell'altro e io guarda ti dico questo lo metto lì come anche forse non dico consiglio ma io parlane tu che lo conosci lo conosci sai cos'è ci troviamo insieme in privato e organizziamo un incontro parli tu di questo autore di questo argomento di questo tema se lo tieni presente in presente che può anche essere un tema che a me personalmente non interessa ma se c'è comunque io la vedo così se c'è un feedback perché non aiutato bene io ti posso dire che non ho mai trovato nessuno che abbia poi fatto effettivamente questa cosa cioè ad esempio avevo un un iscritto che lui parlava molto e anche mi chiedeva di interessarsi sul problema della violenza sui bambini e ha detto cioè parlane tu mi parli di questi autori vuoi invitare questi autori in trasmissione la porta è aperta e però non si vede nessuno cioè poi all'atto pratico vogliono che siamo noi a fare le cose e forse si è anche e anche mi riferisco a quello che tu dicevi sul discorso di cento giorni da leone che è una trasmissione che molti conoscono ed è e fa parte di quella cosiddetta controinformazione chiamiamola così no e io tu tu hai un paio di programmi vieni in chat qui su telegram a incontrare e diciamo così il pubblico una volta a settimana anch'io al laboratorio un paio di volte a settimana ma perché perché abbiamo anche qualcosa altro da fare sono degli spazi che noi diamo volontariamente è del volontariato che stiamo facendo quando se avessimo una trasmissione come loro che ogni mattina alle otto e mezza c'è la diretta tu capisci che ci vuole un'organizzazione e questa organizzazione come tutte le cose bisogna mantenerla quindi si innesca quel giro di donazioni di questo di quell'altro ma soprattutto ogni mattina devi parlare di qualcosa e non è detto c'è quello che hai detto tu poi alla fine del tuo intervento è che il silenzio la pausa per non far scattare questa mente è il primo passo verso un vero risveglio è fermandosi che ci si comincia a risvegliare e anche questa famosa controinformazione se come il tg1 tg2 tg5 mi sei sempre lì presente alle otto e mezza tutte le mattine pronto a darmi le notizie del mondo e a bombardarmi passare dall'informazione cosiddetta mainstream alla cosiddetta controinformazione è come cadere dalla padella alla brace cambiano i personaggi ma poi il sistema lo stesso ecco che manca sempre l'analisi dopo l'informazione ma per fare un'analisi bisogna fermarsi ragionarci su ed ecco che quando le persone poi gli chiedi di fare un qualcosa di alternativo cioè di entrare protagonisti nella cosa fanno tu che non lo spazio il laboratorio per quello è oltretutto sottoscrivo anche facciamo alchimie proviamo mescoliamo tanto la verità non la sa nessuno ma almeno fra virgolette divertiamoci ma divertiamoci a fare un qualcosa di veramente alternativo perché ciò che ci viene dato come ufficialità è tutto scassato la macchinetta è scassato ecco mi mi fermerei qui anzi perché a lui ci ti ringrazio dello spazio perché poi ci sarebbe da dire su maria dei filippi semplicemente ci ha bombardato da quei tempi lì ok a dare lezioni di affettività in tv ma adesso l'affettività adesso l'affettività viene ufficializzata per legge ma quel mondo è già preparato da vent'anni di maria dei filippi a vedere queste come dicevi tu no a io sono brava io sono buono io sono la regginetta di questo io sono il super maccio e poi deve vedere lì come queste trasmissioni da pollaio dove venivano veramente fuori gli istinti più basilari quello è la fine va bene grazie mille grazie mille grazie grazie a te si guarda aggiungo due cose una è per fortuna ci sono spazi diversi nel senso che io capisco che alcuni canali facciano informazione dentro quell'informazione hanno il loro palinsesto diciamo e vanno avanti tutti i giorni più volte al giorno dando un'offerta informativa ok però dobbiamo stare attenti ad una cosa che non si crei che credo che fosse quello che diceva marco una specie di cacofonia monotonia dello stesso discorso che crea un filone di pensiero che alla fin fine quasi quasi diviene l'altra faccia della medaglia l'opposto del però l'opposto ma così intimo così simile di quella continuo bombardamento di parole che ci viene offerto da quello che viene chiamato il sistema massmediatico il sistema di massa mainstream come piace basta stare attenti a quello che non divenga poi un sottofondo e oltretutto negativo negativo perché va male faranno questo ti faranno questo ti faranno quell'altro e vabbè l'ho capito e che cazzo basta cosa devo fare cioè ad un certo punto io credo che ci siano anche più cose negative che alcune persone pensano di quelle che in realtà accadono e se noi ci sforzassimo non di far finta che non ci sono problemi ma di creare qualcosa di positivo allora prima non vivremo male perché io continuo a trovare persone depresse o nevrotici che cercano di stare dentro il sistema e sono nevrotici chiaramente anche fanno cose e fanno il contrario della stessa cosa l'abbiamo visto in tre anni dove è stato detto tutto è contrario di tutto alle persone di fare eseguire vai dentro il locale siediti perché il virus sta in alto adesso alzati perché il virus è in basso ne fai una perché sarai protetto dieci anni dopo ne fai due perché sarai protetto una mazza cioè adesso non devo ricordare tutto ciò che è stato detto e smentito e fatto quindi coloro che vogliono adeguarsi al sistema sono sostanzialmente nevrotici coloro che non vogliono rischiano di scivolare in una sorta di depressione allora io credo che ci sia una strada mediana e trascendente rispetto capace di trascendere queste due posizioni ed è la strada della liberazione della mente e del cuore poi del fare ora qui ed ora e per il mio futuro e anche progettando ciò che amo fare con le unghie con i denti ritagliati gli spazi creati il sentiero per poi fare ciò che ami vi faccio un esempio io ci provo il discorso famiglie genitori valerio da poti ti apro il microfono genitori famiglie scuola nel mio piccolo ci provo un'idea che trovo geniale oggi è ma invece di continuare a dire che le scuole fanno non vanno bene eccetera perché non si trova un sistema magari qualcuno che ha più agganci economici di forza perché non facciamo una scuola una scuola che alternativa ma capace di competere con le scuole competere di superarle ma non producendo un individuo appunto simile ma capace di superarle realizzando un uomo sereno felice allora è chiaro che devi creare un aggancio fra genitori non è facile però vedo che si spendono soldi per fare delle minchionate manifestazioni casini eccetera cioè guardate che a volte tre tre persone riescono a cambiare 300 persone 30 persone 300 mila persone quindi genitori insegnanti da trovare che abbiano e poi i ragazzini e poi i fondi però almeno costruiamo un'idea di futuro di anche è un appoggio ai genitori un luogo diverso dove fai educazione ai sentimenti fai educazione alla vita questi si svegliano la mattina esiste il femminicidio e però non si sono dimenticati che c'è l'omicidio il suicidio l'utilizzo di droghe smodate i giovani stanno male a 360 gradi ma loro vanno lì col bombardamento del femminicidio ideologico politico funzionale ci sarebbe l'educazione si chiamava ex ducere i ragazzi entrano alla scuola c'è un processo di instruire di strutturazione di educazione ex ducere questo doveva fare la famiglia e la scuola vai valerio valerio c'è il microfonino sotto da pigiare non lo so non c'è il microfono scusa valerio ma non ti sento mistero scusa non va non ti sento vediamo l'orella apriamo l'orella ti ho aperto il microfono c'è l'unico qua che si sente Marco ecco ti vai vai ci sei ciao ciao buonasera e grazie per le cose che hai detto riflettevo su una cosa sul fatto giusto di questi sentimenti umani che abbiamo la rabbia rancore e specialmente a volte vengono fuori spesso anche negli ambiti familiari o volte rivolti verso questa società della quale tu dici o sei integrato o a volte ti crea uno stato di depressione ecco proprio su questo fatto volevo far leva perché mentre la rabbia e il rancore io li osservo li guardo li accetto perché fanno parte di me e ci sono non è inevitabile ci sono nell'ambito familiare a volte vanno e vengono questa depressione che si instaura nel non non riuscire a volte ad integrarsi in questa realtà è difficile perché ti ritrovi a scontrarti a volte con delle cose che non sono sempre persone ora dico una cosa banale tu dicevi che il passeggiare la passeggiata lungo il mare da sola con poche persone è rilassante benissimo io oggi alzavo gli occhi al cielo e dico una grandissima banalità era pieno di scie volevo fare delle foto volevo rilassare e ho avuto un momento di reale sconforto dico miseria bellì è tutto il sole è bello ma cosa stanno facendo allora ho cercato di ridurre di dirottare però sono escamotte terribili che uno deve trovarsi c'erano delle canne che volavano al vento ho isolato le cose e ho fatto una ripresa col telefonino di queste canne che volavano al vento cioè cercare come posso dirti nei momenti della depressione in cui si instaurano queste realtà brutte che ci circondano di creare delle oasi dei momenti in cui ti permette di di non soffrire di questo perché la rabbia la vedi il rancore lo vedi la depressione la vivi più 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 non ti non la vedi la depressione la senti è un po diversa cioè la vivi in una maniera più intensa forse no quindi creare in quei momenti lì oggi l'ho vissuto con questo piccolo episodio banale in prima persona perché penso che tanti di noi abbiano questa situazione cioè di sentire forte questa depressione che questo tirarti giù di queste energie che si stanno muovendo no ecco su quello secondo me la nostra mente è più è più non di tutti spero gli altri siano più forti di me ecco comunque è difficile non so se mi sono resa se ho reso l'idea di quello che volevo dire quindi cercare in questi momenti come fai tu quando fai questi bei video magari vedi la natura l'acqua mi è capitato di vedere ecco in cui cogliere quei momenti di rottare proprio di rottarsi in altre cose è difficilissimo secondo me è la fase la parte più difficile più forse che osservare le labi e i rancori e accettarli perché poi vengono fuori sensi di colpa che ti porti dietro dall'infanzia quindi ecco io sono sono cattivo perché sono arrabbiato no io sono arrabbiato punto adesso sono arrabbiato e la depressione è diversa correggimi se sbaglio o se altre persone hanno questo mio senso sentire relativamente a a queste cose esterne che ti deprimono e ti buttano giù e ti devi arrampicare proprio ecco questo sono stata lì con torta ti chiedo scusa grazie grazie dell'ascolto grazie a te lorella grazie provo a darti un ritorno personale ma penso di aver capito dopo mi dirai tu se ho capito non ho capito allora secondo me non è proprio così probabilmente tu senti maggiormente in questa fase la depressione però ci sono anche tante altre condizioni che se uno le vive perché tu dici arriva la rabbia e sono arrabbiata arriva la rabbia sì se la rabbia è circoscritta la gestisci magari dice anche un senso ci sono persone che soffrono di esplosioni di rabbia e creano un inferno di vita e un po alla volta scivolano sempre più nell'abisso della non gestione della loro rabbia rabbia esplosioni significa finire a magari picchiare un familiare qualcuno a lavoro perdere il lavoro beccarsi la galera c'è dopo diventa proprio una bestia senti che c'è un mostro dentro di te non soffrono di depressione ma ad esempio io non so perché ma negli stati uniti forse hanno una confidenza maggiore con la rabbia considerando anche come si comportano in giro per il mondo ma spesse volte vieni proprio mandato a dei corsi sulla gestione della rabbia e c'è molto di più un sistema che cerca di aiutare le persone a superare il problema rabbia esplosioni emotive da noi no cioè avete io ci lavoro nella dimensione sociale relazionale da vent'anni sì se vai ad esempio al serd se vai un servizio di colloqui eccetera e spieghi il problema ti aiutano certo ma non è diffusa la consapevolezza in giro che esplosioni di rabbia sono un problema e poi andare a parlare proprio di quello probabilmente noi abbiamo ancora alcuni aspetti problematici diciamo da una cultura che non ha mai sedimentato in maniera efficace l'intervento psicologico la relazione d'aiuto la filosofia non ha sedimentato nessun campo c'è tutto un po confuso da noi perché forse un tempo era completamente dominato dal percorso dalla presenza religiosa sto tornando indietro di un po di anni ma già quando io ero piccolino il bimbo alcune tante famiglie andava a parlare col parroco la mamma parlava c'erano i gruppi parrocchiani non c'era lo psicologo certo che c'era ma non lo dicevi in giro ho mandato mio figlio dallo psicologo camelia ti apro il microfono fra un secondo sperando che microfono quindi tutti i problemi che uno vive diventano totalizzanti forse tu oggi senti molto di più questa depressione questa disillusione depressa mi viene a dire perché credo di conoscerla bene me ne parla la maggior parte delle persone mi riporta questo sentimento di sconforto di a volte di angoscia e di depressione di un mondo che sta cambiando ma sembra che cambi sempre in peggio è però è quello che provo a dire ho provato a dire prima non è c'è secondo me molti stanno proprio sbagliando l'approccio e c'è anche un filone di informazione che in realtà sta condizionando e non funziona così abbiamo sentito spesso parlare di apocalisse l'apocalisse vicina ma fa una scuola intervieni modifica le relazioni familiari che hai rompi le palle ai tuoi amici ma ho perso tanti amici bene bene dei persi ne troverai altri meno meno ma magari più più affini più più perché una volta prima di certe crisi degli ultimi anni guardate che si stava un po tutti assieme ma ci si sondava poco si sondava poco l'animo della persona cosa credeva cosa crede sui figli la salute la sanità il futuro invece questi eventi hanno messo in forte discussione seria le cose quindi stiamo diventando più profondi se la vediamo in questa chiave c'è tanto da fare ed è bello se invece vediamo tutto hai visto cosa fanno nel cielo sì vabbè può essere ma cosa fanno stiamo concentrati vi ricordate quanti video ho fatto dopo c'è chi mi rompe le palle perché commento i vangeli nei vangeli c'è scritto non resistere al male è una cosa meravigliosa che ci suggerisce cioè guarda il male e non aderire non alimentarlo ma non resistere non creare opposizione vai a generare il bene vabbè comunque se volete ne tornare ci torneremo sempre su questi temi camelia ti apro il microfono aperto il microfono ok fatto se ci siamo ok buonasera pier ciao allora io vorrei chiederti una delucidazione diciamo fra le virgolette tecnica parlavi del rimanere in compagnia di quello che si sente non che sia dolore rabbia risentimento o quello che è per riuscire a superarli in maniera poi serena consapevole quello che mi viene in mente e che mi chiedo è non c'è forse il rischio che esaminando no approfondendo l'emozione negativa la si possa in qualche maniera qualche volta alimentare amplificare perché io penso che spesso i risentimenti vengono aumentati dentro di noi proprio così almeno a me capita qualche volta no di venire a pace con un brutto pensiero con una brutta sensazione se evito di pensarci se mi distrago in qualche modo poi è altrettanto vero che quando ho un problema serio ho bisogno proprio di rimanere in compagnia di me stessa e di analizzarlo in profondità però ci sono quei quelle sensazioni no che arrivano ogni tanto così all'improvviso e che se continuo a pensarci diventano ancora più grosse di quello che erano prima sì sì ecco quali la mia domanda è quali sarebbero gli accorgimenti no da prendere per ottenere la quiete dallo stare in compagnia del risentimento e non il suo contrario grazie mille grazie perché la domanda è importantissima allora tu hai hai detto più di una volta analizzare pensare dopo pubblicherò sta cosa se ti riascolti hai detto analizzare pensare io credo di non averlo mai detto dal primo video cioè 965 video fa ad oggi stare in compagnia parte il pensiero ma non ti ho detto di pensarlo il pensiero magari parte lo ascolti tu sei la consapevolezza che percepisce il pensiero le persone che cosa fanno si siedono iniziano a macinare su quella cosa ma assolutamente noi per quello che ho detto prima puoi andare a passeggiare nuotare se vuoi lanciarti col paracadute ci fai qualunque cosa ma assolutamente no non stai su ad esempio l'amica qui adesso non ricordo ho messo il foglio siamo partiti da questa condivisione dove l'amica parlava di poi non sentirsi tanto amorevole nel mondo ma sentire rabbia e rancore mettiamo anche gelosia io ho sempre invitato quando vengono queste folate questi momenti o magari in una relazione non è solo un momento c'è la rabbia ci sono i pensieri ho sempre invitato a divenire degli osservatori la terza sedia chi mi segue si ricorderà mettiti sulla terza sedia cioè adesso se voi foste davvero qui di fronte a me fisicamente c'è la mia sedia e la vostra sedia uno o due mettetevi qui io mi metto qui terza sedia vuol dire che sto guardando e ascoltando il mio parlare il mio pensare la maggior parte delle persone cosa fa di solito non ascolta cosa dice non sa che cosa dice dice allora se ti rilassi cinque minuti e lasci la mente e risottolinea un'altra cosa quando arriva una folata di potenti pensieri disturbanti o emozioni è molto difficile fare questa cosa per quello io consiglio ho sempre consigliato e credo che lo consiglino tutti coloro che hanno praticato un po' di ascolto di osservazione meditazione chiamatela come volete ma anche un bravo psicologo ti consiglia training autogeno tutte le tecniche tutte le tecniche alla fine giocano su questo aspetto rilassarsi e creare una distanza dall'evento che ti cattura di solito allora dico sempre partiamo dal momento rilassato cioè quando stiamo abbastanza bene facciamo questa discesa in profondità in un rilassamento più profondo quando c'è serenità una passeggiata o qualcosa in quel momento riempila di ancor più presenza, rilassamento, rilassatezza, serenità e cerca di portarla con te quella presenza, quello stato lucido allora ecco che quando arriva il momento di rabbia è probabile che sarai più centrato e capace di osservarlo ma non vuol dire analizzarlo io ho detto coglierai un significato ma ti apparirà intuitivamente ah mi sto arrabbiando sto diventando possessivo geloso perché sento che lei forse non sta più bene con me mi vuole lasciare senti che vuoto mamma mia mi sento morire oh mio dio lo capisci? non entri in quel meccanismo devo prendere, devo tenerla devo tenerlo anche le donne hanno altre strategie è inutile che torno sempre su tutti i discorsi poi qualcuno riesce anche ad uccidere vai uno a uno palla al centro vieni travolto e fai cose assurde allora è un ascoltare è uno stare quieto quando arriva il momento della prova cerchi di mantenere questa condizione di ascolto non stai pensando i pensieri possono passare li osservi ed è lì che li intuisci e dici guarda che continua a fare lo stesso pensiero invece quando analizzi il buon Krishnamurti diceva proprio una frase sempre analisi è paralisi sei entrato dentro il sistema di analisi che si basa sempre sugli stessi schemi come fai a tirarti su per le scarpe per i lacci e quindi si crea un vortice per quello che cerchiamo di andare a farci fare l'analisi da qualcun altro però io sono un amante del percorso diretto cioè se capiamo se capiamo questa modalità di entrare in relazione con noi stessi e i problemi secondo me ci apre un'autostrada però è importante capire questo aspetto non stiamo analizzando non stiamo elucubrando ci stiamo mettendo come degli osservatori dei testimoni poi ne torneremo a parlare perché adesso faccio l'ultimo passaggio Arctic Zen aveva alzato la mano io ti riapro il microfono se vuoi parlare però andiamo verso la chiusura fra poco perché siamo a due ore quindi non riesco a far fare tutto il giro sì ciao Pierluigi intanto piacere di conoscerti e saluto un po' tutti ciao beh più che spande in realtà posso dare una testimonianza magari al gruppo di comunque un percorso che mi ha portato all'ascolto ovviamente vent'anni di pratiche meditative e quant'altro ovviamente alla base come dicevi tu di partenza ci vuole comunque un po' di conoscenza di vari meccanismi soprattutto di come funziona la mente umana l'ego le emozioni e tutte quelle cose lì poi ovviamente comprendere un po' il sistema che ci ha attorno ma alla base sta prima a comprendere come siamo fatti noi stessi quindi prima di conoscere quello che c'è all'esterno io dico che è meglio conoscere prima quello che c'è all'interno di noi e come reagiamo a livello sia familiare e sociale e quant'altro detto ciò giustamente come dicevi è un fattore di ascolto e quindi con la consapevolezza un po' a 360 di alcuni argomenti nonché proprio di quelli che ho citato sta la pratica e l'esperienza insomma a farla un po' da padrona come in quel caso che diceva Lorella che guardava su le scie chimiche e che ha provato un po' di sconforto o un'emozione simile più che magari depressione in realtà sono 5 o 6 anni che conosco un po' la situazione e sì beh forse mi è capitata una volta però la cosa finisce lì in primis perché capisco che comunque sto attivando dei meccanismi mentali che mi portano in manità stressante quindi che non è giovale per la mia salute con un meccanismo proprio biocellulare e quant'altro e quindi switcho il problema come faccio con qualsiasi altro tornando al discorso tuo finale chiudo sì in realtà tornando Maris una cosa un po' più emotiva un po' più diciamo così sensoriale emozionale come una persona che ti dà fastidio o in una situazione dove comunque senti che quella calma che comunque porti avanti da tempo è in qualche maniera minacciata da una situazione futile perché di per sé sono futili tante situazioni dove magari le persone si arrabbiano e magari in passato agivo anche io magari di impulso quant'altro e mi tormentavo per giornate mi è capitato a distanza di 3-4 anni di serenità totale davanti a qualsiasi tipo di problema insomma è capitato l'anno scorso di iniziare una discussione con una persona che però a ragion veduta mi stava logorando per un giorno un giorno intero e quindi dopo lì mi sono messo in ascolto e ho detto aspetta qua io mi devo logorare per uno così che comunque per quanto poco lui ha le sue scarpe io la mia lui ha la sua verità io la mia non sto neanche qui e quindi lì ho proprio ho sepolto ho chiuso lo scrigno come faccio a volte ci sono dei problemi mi arrivano li analizzo non sto là tre giorni o mezza giornata o quel che sia chiudo lo scrigno lo butto giù sull'inconscio e dopo magari durante la giornata se l'inconscio me lo fa riaffiorare lo chiudi istantaneamente e via che così e l'abitudine e la costanza di questa pratica mi ha portato negli ultimi anni avere proprio una diciamo un'allerta emozionale emotiva su cose ben giuste posate e comunque non più del dovuto poi ovviamente come dicevo ognuno ha le sue scarpe le sue esperienze insomma certo grazie mille sai grazie della condivisione che condivido pienamente il tuo nome è Zen bravo ok grazie mille Zen goccia goccia esatto buona serata sì io aggiungerei solo una cosa a quella che ha detto il nostro amico Zen cioè quando ha detto guardo il cielo c'erano le scie che poi siano le scie degli aerei che buttano kerosene dalla mattina alla sera che c'è chi pensa alle scie chimiche chi pensa a quello che volete certo è un aspetto dei mille aspetti che ci possono preoccupare ogni giorno giusto ha detto una cosa importante ha detto faccio switch con la mente io so già che alcune persone quando sentono questa cosa dicono ah allora semplicemente tu hai chiuso gli occhi testa nella sabbia no e sono certo che anche l'amico intendesse questo no non ho messo la testa nella sabbia vi ricordate un passaggio potentissimo che abbiamo discusso molte volte la preghiera della serenità all'inizio allora dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare ok la forza di accettare ciò che non posso cambiare e capire la differenza io posso cambiare il cielo cioè stamattina c'è il cielo con le scie lo posso cambiare no ne sono consapevole ma faccio switch con la mente non tengo più la mia consapevolezza attenzione focalizzata su quelle idee lì che mi generano un mondo capite cioè io mi investo la mia energia su ciò che posso cambiare che posso amare costruire e ciò che è bellezza è il discorso di prima non perdo il mio tempo in ciò che è negativo io posso occuparmi solo di accendere la luce interiore non posso lottare con il buio il buio è assenza di luce quando la mente flippa e va nella negatività sta entrando in una lotta di un'ombra con un'ombra allora ragazzi siamo quasi a due ore io rimango qui e che all'amico zen che ha rialzato la mano rispondo dopo c'era Lorella se vuole dire un'altra cosa e Antonella però qui chiudo la registrazione perché se no non lo guarderà mai nessuno questo video domani caricato e quindi adesso saluto tutti gli amici che vedranno domani questo video vi ricordo che se volete partecipare a queste dirette vi iscrivete qui a Tele al Grammo dove potete appunto partecipare in diretta noi ci vediamo sempre giovedì mattina con la rubrica una settimana d'ordinaria follia e il sabato mattina con la rubrica cinque minuti oltre le nuvole un carissimo abbraccio a tutti e accendiamo la luce e non occupiamoci delle ombre ciao a tutti Grazie a tutti